salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video oggi parliamo di atomic art è il momento di fare una prima impressione ho giocato un bel po di ore in realtà quasi finito in realtà il gioco sono intorno alle 15 16 ore e quindi ho qualcosa da dire finalmente dopo averlo provato un bel po vi ho già fatto un piccolo video dove se ho visto il prologo e vi ho detto in quel video che ero rimasto molto impressionato dall'inizio uno dei migliori inizi di un videogioco veramente un colpo d'occhio impressionante molto spettacolare che ci introduce a questo mondo diciamo così distopico russo in un momento storico degli anni 50 ovviamente fantastico dove la russia vinto la seconda guerra mondiale e c'è un avanzamento tecnologico impressionante e i robot fanno tutto per l'uomo c'è la piena automazione e appunto l'umanità praticamente gode dei benefici di questa automazione incredibile ma il gioco diciamo che ha subito un bel po di critiche sia prima del suo lancio sia dopo il suo lancio prima del suo lancio è stato fatto perché più che altro non si credeva che questo progetto potesse essere anche solo reale perché i primissimi trailer o in generale un po tutti i trailer erano così incredibili a livello grafico e anche di meccanica di gameplay quello che sembrava esserci nel gioco che dato che questo è un team al suo primo gioco insomma c'era un po di diffidenza e una volta uscito ci sono state altre problematiche alcune puramente di critica videoludica nel senso che questo gioco comunque in questo momento non ha dei voti particolarmente alti e intorno al 70 72 73 ha avuto un bel po di critiche da vari punti di vista e ora andremo anche a vedere cosa ne penso io ma poi ci sono state anche un po di problematiche puramente politiche argomento in cui io quando parlo di videogiochi non voglio entrare mai perché la politica è importante tutto quello che volete ma qua io parlo di videogiochi e non mi interessa niente del resto tant'è che tutte le polemiche anche su Hogwarts Legacy la Rowling negli attivisti eccetera eccetera il boicottaggio che hanno provato a fare anche per Atomic Arts appunto non mi tange minimamente io ve lo dico adesso ma magari ve lo ripeterò anche in futuro se dovesse capitare nuovamente perché a questo punto due giochi su due con diciamo problematiche che esulano effettivamente al videogioco stesso a me non me ne frega un cazzo di chi fa i giochi o chi è dietro i videogiochi a me interessa il prodotto quindi non avrò nessuna opinione su questa questione boicottaggio pro russia a favore ucraina non me ne frega un cazzo qua in questo video vi parlerò del videogioco e dei suoi pregi e anche dei suoi molti difetti che però sono strettamente legati alla questione ludica e quindi entriamo un po' nel vivo della questione perché questo Atomic Arts ha sì certamente dei pregi per essere un'opera prima è notevolissima soprattutto dal punto di vista del design del mondo quindi sia level design che art direction possiamo dire così è estremamente dettagliato è estremamente bello da esplorare e come immersive sim secondo me appunto di un ottimo livello e questo è il suo pregio più alto però come contro altare secondo me questo gioco ha una marea di difetti ma veramente tanti non sono in realtà d'accordo con alcune recensioni anche che ho letto adesso in realtà oggi perché prima di giocarlo così tanto non avevo letto nulla ho visto solamente dei giudizi diciamo così i titoli possiamo dire così insomma e in particolare mi ha colpito un creator che seguo internazionale skill up che è sempre molto critico molto on point diciamo così nei due giudizi e aveva non raccomandato questo gioco e quando di solito lui non raccomanda un videogioco vuol dire che è veramente pessimo ok però devo dire che ora che ho visto la sua recensione non sono molto d'accordo perché secondo me questo non è un gioco da non raccomandare ha un bel po di difetti ora ne parliamo ma non è certamente da non raccomandare come detto è un'opera prima ci sono state secondo me molte ingenuità e molte cose che potevano essere fatte meglio e molte cose potrebbero essere tagliate però secondo me è un prodotto da provare a maggior ragione col fatto che è dentro il game pass xbox o pc quindi se siete abbonati letteralmente ve lo installate e lo provate poi decidete voi la situazione è particolare anche perché ho visto che per esempio su steam ci sono già un bel po di recensioni degli utenti sono quasi tutte in realtà molto positive quindi è un gioco che sicuramente sta creando e creerà in futuro molta discussione ma quindi quali sono questi grandi difetti che ha bene ce ne sono un bel po che sono prettamente tecnici per esempio non c'è il fov non c'è la possibilità di allargare la visuale e questo è un gioco è un fps è un gioco in prima persona e quindi è abbastanza importante questa questione anche perché in atomic art c'è un focus abbastanza forte su anche il combattimento in corpo a corpo questo gioco chiaramente ha preso un'ispirazione da varie altri giochi molto più importanti del passato come fallout sicuramente come prey sicuramente anche un po come half life e certamente come bioshock tutti i giochi tra l'altro in prima persona vabbè fallout si può anche switchare ma tutti gli altri sono giochi in prima persona ok e il combattimento in corpo a corpo in atomic arts appunto è abbastanza importante perché l'impostazione che hanno voluto dare loro al gameplay è quella in realtà certo dell'immersive sim certo dello sparatutto ma hanno voluto dargli anche un tocco un po di survival forse probabilmente uno dei difetti di questo gioco è non avere un'identità forte a livello di gameplay mentre a livello di narrativa a livello di art direction di level design di scelta di vivere in questo mondo distopico estremamente dettagliato c'è una grande identità invece nella parte del gameplay molto meno e palesemente preso un po qui un po là per cercare di fare un po di tutto e questo un po di tutto non funziona particolarmente bene almeno a mio avviso questo perché questo taglio che hanno voluto dare simil survival secondo me non funziona moltissimo con il bilanciamento poi che c'è nel gioco a livello di nemici soprattutto in alcune zone rispetto ad altre mi spiego meglio l'inventario in questo gioco atomic arts è al resident evil letteralmente abbiamo un inventario fatto a quadretti che possono essere riempiti dalle cose che raccogliamo e ogni oggetto ha uno spazio che sia un'arma che letteralmente noi abbiamo nell'equipeggiamento possiamo utilizzare che siano le munizioni di quell'arma che siano le cure che siano degli upgrade o che siano appunto dei consumabili di vario genere tutto questo ha un peso o meglio uno spazio che occupa nel nostro inventario a quadretti come quello di diablo come quello appunto di resident evil quindi c'è scarsità noi non possiamo portarci presso tutto quello che raccogliamo non abbiamo un inventario infinito questo comporta fare delle scelte soprattutto dopo la prima parte di gioco quindi nonostante noi possiamo magari a craftare tante armi o avere tante risorse come cure e proiettili ne possiamo portare solo un certo numero e quindi siamo limitati ora questo va a cozzare un attimino con poi quello che andiamo a trovare nel gioco perché se per una buona parte del gioco c'è un numero limitato di nemici poi ci sono delle parti in cui ce ne sono veramente tantissimi e quindi noi avremmo bisogno in realtà di molte più armi e munizioni a nostro disposizione quindi non si capisce bene se loro volevano fare un gioco diciamo più appunto survival con risorse limitate quindi delle scelte anche su cosa portarsi oppure qualcosa di più all out spacchiamo il culo alla doom eternal o alla wolfstein anche perché ci sono appunto dei punti di gioco in cui ci sarebbe bisogno di letteralmente le munizioni infinite questo si va a collegare con un altro grosso problema ovvero il fatto che questo gioco vuole essere un open world ma fallisce miseramente perché letteralmente la parte open world è inutile in realtà si passa da strutture chiuse simil bunker ma non proprio in realtà hanno delle vere e proprie grandi ambientazioni molto complesse e variegate molto belle che però non hanno nulla a che fare con l'open world e si passa da queste ambientazioni del gioco con l'intervallo di un open world dove non c'è letteralmente niente cioè campi distese quattro case una marea di robot per poi seguendo la trama rientrare in altre zone diciamo chiuse e limitate e più da single player story driven può essere so bioshock e quindi non si capisce bene perché ci sia questo open world anche perché letteralmente dentro l'open world ci sono una marea di robot una marea di telecamere e un bilanciamento fuori di testa nel senso che appena si è scoperti partono gli allarmi arrivano 800 robot ci sono robot che curano altri robot robot che curano le telecamere ed è un loop infinito di di robot e lì ci vorrebbero veramente i colpi infiniti se uno volesse divertirsi invece uno è costretto fondamentalmente a scappare oppure fare lo stealth che non è veramente implementato molto bene quindi non si capisce bene la parte open world perché sia stata messa lì non c'è veramente un cazzo da fare nell'open world ci sono solamente dei punti dove si può attivare una sorta di arena dungeon in cui si sbloccano degli extra accessori per le armi e basta e poi è letteralmente un posto in cui ci si sposta dal punto a al punto b per continuare la main quest e poi rientrare in un'altra zona molto più chiusa limitata che appunto poteva essere semplicemente il gioco cioè potevano semplicemente schippare l'open world e fare tutto un gioco più lineare diciamo così quindi questo secondo me un altro errore di esperienza forse volevano fare a tutti i costi l'open world perché l'open world va di moda ma non era sicuramente la scelta ideale o comunque se volevi farlo dovevi comunque bilanciarlo in un certo modo continuando con qualche altro problema del gioco che ha abbastanza oggettivo e vi dirò appunto un po di problemi in questo parte di video è inevitabile vi devo dire anche che per esempio la scrittura non è questo granché cioè la storia secondo me è accettabile anche se i colpi di scena doveva parare sono abbastanza ovvi il problema è la scrittura del personaggio principale il protagonista di voi che è veramente una cosa oscena ovvero il vostro alter ego quello che voi interpretate è un idiota è un rozzo e praticamente i suoi dialoghi sono una delle cose più moleste odiose che abbia mai sentito in un videogioco cioè veramente ogni volta che apre bocca è sempre una polemica un insulto è così gratuito senza niente di particolare di smart e invece in continuazione con questo guanto che ci aiuta nell'avventura io non voglio andare troppo dentro la trama quindi se volete giocare per questo non faccio troppi riferimenti alla trama però diciamo che c'è un rapporto tra voi e il vostro guanto e inizia così il gioco che vi dà guida vi fa una guida e oltre che a darvi dei poteri ecco questo rapporto col guanto e poi con un'altra situazione meccanica che è quello che vi farà gli upgrade è qualcosa di super molesto cioè tutti i vostri dialoghi sono super fastidiosi non so perché li hanno scritti così onestamente mentre tutto il resto di scrittura sia quello del guanto che insomma delle descrizioni magari degli altri robot del mondo in generale quelli invece sono fatti bene però dato che voi dovete interpretare diciamo così un immersive sim di questo protagonista sono sicuro che vi darà noia tantissimo come è stato scritto ora parlerei un po anche però del gameplay no perché voi vorreste sapere probabilmente che come si gioca questo gioco alla fine è un fps però con che piglio appunto un piglio diciamo vagamente survival un pochino più moderato proprio perché c'è questa limitazione di risorse anche se poi andando avanti col gioco si modifica un attimino la situazione nel senso che voi iniziate con veramente poche armi e pochi poteri e piano piano andrete ad acquisirli e a distribuire dei punti nei vari skill 3 dei vostri poteri per ampliarli per far sì che proprio proprio alla bioshock possiate fare col vostro guanto variazioni che vi permettono di aiutarvi nel combattimento per esempio avete tutta una linea sul ghiacciare una linea sull'elettrificare una linea sul creare dei polimeri che rallentano i nemici che possono essere attivati dai vari status elementari per ampliare il congelamento l'elettrificazione del fuoco cosa molto simile a prey devo dire e questi poteri appunto piano piano voi accumulate risorse e potete ampliarli ok questa cosa abbastanza classica fatta abbastanza bene dà abbastanza varietà del gioco anche perché con una mano ho fatto una cosa e con l'altra mano potete fare altro sia corpo a corpo che sparare con fucili pistole ak47 kalashnikov eccetera eccetera quindi tutto sommato è godibile comunque il combat system anche se all'inizio è un po lento e piano piano quando sbloccate un po di cose diventa un po più veloce questo perché è un fps ma voi non potete sprintare potete al massimo fare dei dash e piano piano che siate più forti ne potete fare un paio potete anche aumentare poi la velocità di movimento diventa un attimino più divertente cioè da metà gioco in poi il gioco a livello di combat system secondo me diventa più divertente inizio secondo me è un po meno divertente quindi questa parte secondo me è apprezzabile è un pochino più tattica meno alla doom anche se però alla fine del gioco può diventare un po alla doom proprio perché diventate molto più potenti e mi è piaciuto l'upgrade diciamo delle armi che si possono craftare e poi upgradare e soprattutto mi è piaciuto in particolare il fatto che voi possiate sempre respeccare oppure distruggere le cose che avete costruito e non perdere nulla dei materiali questa è da notare e se ci giocherete magari ricordatevelo appunto potete sempre respeccare tutti i punti quindi una volta che voi avete messo i punti dove volete se volete cambiare completamente build rispeccate tutto e rimettete i punti da un'altra parte stessa cosa per le armi magari avete provato avete usato tanti materiali per upgradare più armi a un certo punto vi scocciate decidete di girare solo con tre armi super upgradate spaccate tutto recuperate tutti i materiali e vi maxate quelle tre armi ok questa cosa molto buona a livello di gameplay permette una flessibilità senza scocciatura e insomma quindi alla fine questa atomic art com'è come lo reputo secondo me è un gioco da provare da provare potrebbe piacere molto da alcuni potrebbe non piacere molto da altri come opera prima di questo team secondo me alla fine è un buon prodotto solo che ha un po di bug un po di angoli da smussare è un po di scelte opinabili un po di scrittura opinabile però devo dire che la parte di costruzione del mondo dettagli anche un lore che si va apprendendo interagendo con varie cose del mondo ci sono non vorrei fare uno spoiler però insomma c'è una zona museo e in questa zona museo ci sono varie aree in queste aree ci sono delle descrizioni anche audiovisive di tutto quanto e questo amplia tantissimo la lore di dove state giocando quindi da quel punto di vista è stato fatto molto bene il gioco però ha veramente tanti piccoli difetti tanti sbilanciamenti tante cosine che magari sono appunto errore di inesperienza però vanno un po a minare l'esperienza in generale per dirne una che ora mi viene in mente per esempio anche a livello di gameplay ci sono delle boss fight e quelle boss fight sono anche quelle leggermente un po tediose cioè questi boss assorbono una marea di colpi ogni volta che farete una boss fight durerà almeno 5-6 minuti e dovrete anche prepararvi bene perché appunto saranno delle spugne di danno e insomma anche lì ci sono dei piccoli sbilanciamenti in generale come combat system e bilanciamento del tutto però in generale vi devo dire che a me mi è piaciuto il mondo che mi hanno proposto da esplorare e le cose da conoscere sono stato incuriosito e quindi a me mancano poche ore per finire il gioco sicuramente lo finirò forse sapete che di solito non finisco i giochi spesso volentieri faccio solo delle prime impressioni perché non arrivo a fare recensioni perché non li finisco perché mi annoiano perché mi passa la voglia ma in questo caso penso che le farò queste ultime ore per andare a finire il gioco quindi mi interessa anche sapere dove va a parare anche se come detto la trama non è che sia così incredibile nel senso con colpi di scena incredibili si sa un po come va a parare però voglio vedere effettivamente sono quasi più interessato dell'esplorazione delle descrizioni diciamo così ambientali più che appunto della narrativa diretta stretta quindi boh non lo so ragazzi spero di avervi dato un po una panoramica generale di questo motomic art perché appunto sta essendo un gioco abbastanza controverso da molti punti di vista sia a livello di critica inerente proprio al gioco in sé ma anche di altre cose che non c'entrano nulla con il videogioco e sono puramente politica se qualcuno comunque lo sta giocando l'ha giocato vuole darmi qualche suo parere come la sta vivendo certamente potete scrivere sotto nei commenti sono curioso di sapere appunto come lo state percependo perché ci sta giocando questo atomic art detto questo chiudo qui la mia super lunga prima impressione e io vi saluto noi ci becchiamo prossimamente per altri video qua sul canale sempre sul gaming a 360 gradi rimanete sempre sintonizzati come sempre e alla prossima ciao ciao